In questa lezione parleremo di come determinare le sezioni sferiche in proiezioni ortogonali, cioè le sezioni generate da un piano che interseca una sfera, quando il piano è un piano proiettante. Possono presentarsi tre casi. Piano proiettante in prima proiezione, cioè perpendicolare al P.O. Piano proiettante in seconda proiezione, cioè perpendicolare al P.V. Piano proiettante in terza proiezione, cioè perpendicolare al P.L. Però nella nostra lezione noi non considereremo il terzo piano di proiezione P.L. in quanto normalmente trascurabile. In tutti i casi, la sezione sferica generata da un piano proiettante è un'ellisse, che riusciremo a vedere tutta intera solo nel quadro di proiezione dove il piano che taglia la sfera è genericamente inclinato. Quindi, se il piano è proiettante in prima proiezione, vedremo l'ellisse intera in seconda proiezione, sul P.V. Mentre se il piano è proiettante in seconda proiezione, vedremo l'ellisse intera in prima proiezione, sul P.O. intera ma non in vera grandezza. Quindi, una volta determinata la sezione sferica generata dal piano, dovremo preoccuparci anche della determinazione della vera grandezza della sezione. Ma prima una precisazione. Solitamente, quando viene chiesto di determinare in proiezioni ortogonali la sezione sferica generata da un piano proiettante, vediamo solo la traccia obliqua che interseca la proiezione omonima della sfera, cioè solo la traccia del piano dove esso è perpendicolare. L'altra traccia, invece, non tocca la proiezione della sfera. Ma a volte può capitare che le tracce del piano siano disposte in modo tale da farci vedere entrambe le tracce che tagliano le proiezioni omonime della sfera. In quel caso, non è assolutamente un problema, e il metodo di procedere non cambia di una virgola. Ora, differentemente da ciò che accadeva quando il piano di sezione era orizzontale o verticale, la sezione ottenuta non è stavolta in vera grandezza. Per poterla determinare, occorrerà eseguire un ribaltamento del piano proiettante. Di questo argomento abbiamo già avuto modo di parlare in alcuni video precedenti, che potete ritrovare all'interno di questo canale YouTube, sebbene all'epoca il ribaltamento del piano proiettante sia stato utilizzato all'inverso rispetto a come lo utilizzeremo adesso. In tali video abbiamo infatti visto come portare una figura piana sul piano proiettante, conoscendone le reali dimensioni sul ribaltamento del piano. Cioè abbiamo visto come eseguire un raddrizzamento. Adesso vedremo invece come determinare le vere dimensioni della sezione sferica, che è una figura piana, appartenente ad un piano proiettante, sia sul PO che sul PV, in modo da concludere definitivamente l'argomento. Cioè ci occupiamo di un ribaltamento. Tutti questi argomenti, sezione sferica generata da un piano proiettante qualsiasi e determinazione della sua vera grandezza, non saranno però trattati in questo video, bensì all'interno di dettagliate e chiare dispense, che potete scaricare a pagamento all'interno del mio sito. Il link alla pagina è presente anche in descrizione. Una volta entrati all'interno della pagina, potrete leggerne i contenuti, il prezzo e il numero delle pagine. Per effettuare l'acquisto, sarà sufficiente seguire le istruzioni riportate. sempre nella pagina.